Vuoi rendere felici i tuoi clienti e raddoppiare le tue vendite? Lascia che Max ti spieghi come funziona. Lui è un agente immobiliare. Lui era solito rappresentare gli interessi del venditore e anche gli interessi dell'acquirente. Max ha provato a rendere felici tutti, ma... Il venditore vuole vendere il suo immobile velocemente e ovviamente al prezzo più alto possibile. Mentre l'acquirente vuole questo e quello, e quello, e quello, e quello, e ovviamente tutto al prezzo più basso possibile. Ma fortunatamente, c'è una via di uscita da questo dilemma. La collaborazione tra agenti Max ora mette insieme le sue forze con altri agenti. Ora si specializza a rappresentare solo l'acquirente. Rita si specializza a rappresentare solo il venditore. Grazie a questa rappresentanza esclusiva e alla collaborazione tra agenti Max può offrire più immobili che rispondano alle esigenze del suo cliente acquirente. E Rita può mettere in vendita l'immobile del venditore a più potenziali acquirenti attraverso i suoi agenti. L'accordo è raggiunto in un attimo, grazie alla collaborazione tra agenti. Gli acquirenti sono felici perché i loro interessi individuali sono soddisfatti. I venditori sono felici perché ottengono il miglior valore. Gli agenti sono felici perché gli immobili vengono venduti molto più velocemente e meno giorni sul mercato significano più transazioni in meno tempo. E il risultato sono maggiori commissioni per gli agenti. Aumentiamo la soddisfazione dei nostri clienti e il successo degli agenti. Vinciamo insieme!